Da quando ho imparato a camminare, mi piace correre, scriveva Nietzsche. L'essere umano non si accontenta delle piccole conquiste. Mette a suo quadro l'equilibrio raggiunto per trovarne uno nuovo, che gli dia una fonte di ispirazione. Siamo all'ombra delle Alpi Orobie, tra le magnifiche Valseriana e Valdiscalde, per una sezione di trekking speciale. Abbiamo chiesto a Simone, uno sportivo del luogo, di seguirlo passo dopo passo a Valbondione, alla scoperta di questa palestra a cielo aperto, per vedere con i suoi occhi e ascoltare con le sue orecchi storie sportive di indiscutibile fascino. Siamo un gruppo di slack di Bergamo, quindi raggruppiamo tutta la zona di Bergamo. Siamo attivi principalmente in valle, dove piante, prati, zone naturali ci permettono di attaccare le nostre linee. La slackline è un'arte del camminare su una linea molle, letteralmente slackline significa linea lasca, di nylon o di poliestere, da un punto A a un punto B. Ovviamente si inizia sempre dal basso, quindi è difficile, anche quando lo proponiamo ai bambini, è difficile che questi abbiano paura, perché rispetto a quelle che vedete qua dietro, che sono comunque già abbastanza alte, solitamente si inizia a circa mezzo metro d'altezza. Solitamente si inizia con delle slackline, dei fili da 5 centimetri di larghezza, e poi si passa a spessori più fini, solitamente ci sono 5 centimetri e 2 centimetri e mezzo. Quindi è proprio un modo di esplorare la camminata, secondo me, al 100%, non solo su superfici stabili, come siamo abituati a fare. Inizialmente è molto... da molta tensione, quando sei su devi essere molto concentrato e guardare solo lei. Infatti ti viene da dire, cavoli ma perché la faccio? Quando prendi confidenza hai la possibilità anche di guardarti intorno, in questo caso le nostre fantastiche orobie. L'aria si fa più rare fatta, i battiti del cuore accelerano sempre di più mentre si sale in quota. Saliamo a 2000 metri nei pressi di Lizzona, per scendere col downhill tra nuvole che fanno da tendina ad uno spettacolo ripetuto più volte l'anno e capaci di richiamare migliaia di spettatori, e il sole ad indicare il cammino con la sua luce. Basta alzare lo sguardo e vedere alle nostre spalle i due giganti delle orobie, pizzo coca, pizzo redorta, che superano i 3000 metri, e le cascate del serio che vengono aperte fino a 5 volte durante la stagione. Abbiamo pendenze importanti con percorsi che vanno dai più semplici ai più difficili, che permettono a quasi tutti di poter provare questa disciplina. Downhill è un'attività che in altri posti del mondo è arrivata molto prima che in Italia, adesso si sta portando avanti in Italia. È uno sport che prevede l'utilizzo di bici un po' particolari rispetto a quelle normali, e lo dice la parola stessa, è uno sport che viene fatto con le bici in discesa, prevede l'utilizzo di protezioni speciali proprio per evitare di farsi male. Il consiglio è quello di provarle entrambe. Quindi abbiamo la possibilità delle biciclette, provare la bike, ma soprattutto venire a fare trekking e godere di questi panorami spettacolari. Ci perdiamo in una selva oscura che la retta via era smarrita. Siamo sulle sponde del Black River, in una profonda gola a pareti verticali, attraversata da un torrente a pochi passi da Fiume Nero, frazioni di Val Bondione. Lo sport diventa avventura tra discese mozzafiato e la natura più selvaggia. Incontriamo una guida locale, il nostro Virgilio, per affrontare in sicurezza questa magnifica discesa. Il canyoning o torrentismo in italiano è una bellissima disciplina che mixa diverse attività. Il percorso, ok, la cascata dietro di me è l'uscita dal toboga, che è il grande scivolo di Fiume Nero. E qua ci possiamo veramente divertire. Sono circa 200 metri di dislivello in discesa, ok? L'avvicinamento è brevissimo, un quarto d'ora. E possiamo starci tranquillamente due ore e mezza, anche tre. Importante è la muta da sub, i calzini neoprene, che ci proteggono dal freddo perché l'acqua è abbastanza frescolina. Poi possiamo utilizzare un paio di scarpe da trekking o da tennis, ok, che ci possiamo portare anche da casa. E infine utilizziamo un imbrago con una doppia longe e un caschetto di protezione. Con questo noi possiamo affrontare il percorso, logicamente seguiti dalla guida. Il respiro si fa corto, la fatica si fa sentire. Dopo tanti chilometri è giunto il momento di rallentare e trovare il ristoro per anima e corpo. Ci gustiamo il ricordo di questi busti, frutto di brindisi tra volontà divina e duro lavoro dell'uomo, con la promessa di tornarci presto per godere ancora dei suoi inestimabili valori.